Favamo partita rapida perché se vede che c'è mentre ci muoviamo però molto spesso Vabbè no quello è... Allora va 3, 2, 1, vai Eh... Ah Pallotto è professionista, Pallotto è... Siamo sempre in due e basta quindi non è... Cioè me lo auguro Esatto È proprio lui, mio fratello oggi è incredibile Con tutto questo, queste persone online, cioè che fortuna Porca su è giocato proprio Francesco Marzano Ma mi sa che non si è mai visto in live, by the way, che palle Mamma mia come la incastona l'arancione Fenomeno Ah un record sub, suiiiiiii Un piccolo applauso Che manderò per festeggiare, cioè Contribuia Maestro continua 100 bit Oddio fai partire il treno già anch'io Il maestro elegante, il maestro ha voglia di continuare signori Eh ma non pensa un po' troppi Mello sto sfondo delle hot bull bull Che... 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 è un brutto gesto ma la nera è messa molto strano onestamente madonna madonna che bravura è qui non fate deragliare questo treno amici non dura ragazzi se mi avessero detto con quella la it avrei detto no quale it è la bianca quella incastrata fortunatamente fallo imbucata la biglia e battente lo sai che c'è l'ha anche Manuxo questo gioco marzo c'ero da due anni fa tipo 60.000 partite signori comunque veramente se venite e porco dio non venite qua sfidamme a metà settembre quando mi arriva quello Irla e vi tiro un cazzo anche perché hai pagato pure abbastanza porco dio dai eh quelli sono belli e due sono in cassa è in soggiorno 2000 euro dio cane il Milan sta pensando al colpo Roger Ibagnaz potrei diventare del Milan effettivamente dopo Romagnoli serve un'altra sega in squadra che aggressività siamo poveri di racca per i ribili rabbia erano i ricchi di rabbia cazzo quanta rabbia che c'hai una marea di rabbia però ce l'ha che mossa quella di basarmi sulle stelle del mio tavolo per capire dove tirare vabbè se accetta dirlo prima allora no da zio sempre a piangere una cosa incredibile però dai che cazzo ha preso a me è diventato le tale il maestro io mamma mia è un fenomeno eh ragazzi è un fenomeno non ho un tiro umano dai che c'è là bro nel 2018 ti giuro che mangio il miglior sashimi degli ultimi 15 anni ti giuro come continuano a sparare sotto casa mia bro no dove cazzo va la bianca porco dio e vabbè che la pippa ma non so ma manco ad andare nei buchi però allora adesso signori che c'è è da ragionare ho lasciato tutto sul tavolo se è nato eh c'è una riga c'è una riga però c'è un pallino che ti sei scordato dall'altra parte ma tutta la riga ha lasciato un pezzo un cristallino bisogna essere bravi qui ragazzi fanculo a questo dolore sono d'accordissimo con questo piscallo che ha detto questa cosa che ha detto cioè se a instagram sta andando a puttare eh o metto questa signori o qui il game finisce vediamo se sente la pressione il toccus e questo è un bel tiro eh e questo è un bel tiro questo è un gran bel tiro fa vedere sta animazione va che voglio vedere un po' di blu e non può sbagliare sblocca mamma mia guarda come sblocca anche un trofeo centone di onoreficenze mamma mia era abbastanza parole difficili onestamente ebbè uno a uno uno a uno si gioca tutto qui incredibile spettacolare ma fatemi chiudere la stream signori sono in difficoltà non so perché continuo a pensarci con la mente la mente va lì mamma mia non ne imbuca nemmeno una signori eh ho fatto la canguro morto ho fatto un volide ma che è successo? un razzo dici? si trasforma in una figa nananananananananananananana ma era così raga? beh non fatti per quello poi da ma perché da piccolo mettono tutte ste cose in mezzo in modo tale che quando cresce fa moque va ciao spacciatore di sdrogo poverso io sono pazzo No, te sei coglione, bro Però, onestamente, ma no Mi ricordo che tu eri una persona degna di stima Ma cosa ti è successo? Ha fatto due mesi con noi, sì Perzo Devo dire una cosa, bro Dimma Che cosa mi hai detto? Manuxo, sei un coglione pezzo di merda Manuxo, mi è entrata la bianca Manuxo, la devi pippare quando è sul tavolo Manuxo, non la devi lasciare entrare Perzo Oggi stavamo a pranzo Beh, è importante che mangi No, sì, più che altro c'era mia madre A pranzo Da nulla dopo aver finito il suo piatto Che lei finisce sempre prima Perché comunque mangia troppo veloce Si alza in piedi Ma tutta incazzata Senza un motivo E inizia a gridare Signori, non vedete il gioco d'azzardo Come una fonte di Guadaglia Ma sempre come una fonte di intrattenimento Voto 9 su punto 5 Sei uno stacanovista Personaggio preferito di One Piece e Naruto Ishigo Ishigo Usaitama Ma pure Jigen era figo dai Sì Goku Il mese è difficile Chiudi gli occhi Ma questa è bellissima Ma questo mese è nel 31 Che culo Porco Dio Incredibile Niente ha vinto Giuseppe Grazie per i 4 Ben tornato Non ho onestamente capito Perché non hai fatto prima la rossa Marzo Perché poi come facevo Avrei avuto coperta Quell'altra Invece questo Se avessi tirato bene Sarei stato apposto Sbagliato E mia madre è una puttana Ricordo che sono tuo figlio Va bene Ma no è vero Quanti anni hai tu? 23 24 23 23 23 E quello dove È il numero mio Sponda facile L'ha fatta veramente Vabbò Dai Che culo Dio Porco Che cazzo De fenomeno Vabbò 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 Grazie a tutti.